...della nostra postazione con la... ...maurici, però oggi ha il primo passaggio, viene a fare il portato... ...maurici, prova a spingere la scotta Fabia verso il... ...desta, destra, verso il privato... ...è pure il gesto di anni... ...maurici... 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 ...numero otto, attenzione alla staccata, non bisogna commettere errori... ...bravo... ...della... ...della... ...maurici... 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 ...comantico, esistimente, è inuttivo... ...intenzione ad altissimo livello tra i due rifatti... vediamo intanto la situazione maurini Giole avranno limato quei tempi che separano non è un bel corso il l'alentipaggio mi sembra avere un po' rallentato la sua torta ma non è un po' rallentato 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 non è un po' rallentato